Oddio! 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 Venuto giù il ponte dall'autostrada Matteo bentornati, torre del greco Stella boccia, civitella valdichiana William Pousadou, Francia Lila Nora, Rivera Castiglio, Genova Buongiorno dal TG3 14 agosto 2018 Avete visto nella nostra copertina montata da Alberto Carnemola Le immagini di un anno fa e quelle di oggi Il crollo del Ponte Morandi 43 vittime, immensi danni in una città che si ritrovò divisa in due Poi il dolore dei genovesi e gli strascichi polemici Oggi giornata di commemorazione alla presenza delle più alte cariche dello Stato Allora sentiamo il servizio di Riccardo Porcu Gratulabile Gratulabile Deto Gratulabile Gratulabile Ghi Chate Grazie.